Sì, assolutamente, è fuori il regista, ma sai che ci sanno? Sì, riprendi le istruzioni dell'airbag, il bambino che vola Sì, c'è buio Ah, si vede, si vede Quello rosso è un bambino che vola Io sai perché sono contento Perché? Perché ci sarà Spider-Man Beh, bravo, bravo A me Spider-Man, oh, io ti giuro Tra tutti i supereroi della Marvel A me Spider-Man No, è il mio preferito A me sta sul cazzo Iron Man A me non sta sul cazzo No, a me sta sul cazzo Iron Man No, a me piace troppo È troppo pezzo di merda di percula troppo Allora, sai, chi mi piace? Quale? Wolverine Però non c'è in questo film Ho 17 centesimi Ti bastano, un anno dura Quando he wanted to wear the rain E' questa quella cosa che se un tizio si è suicidato in live su Periscope No, non c'è Si è suicidato un tizio in live su Periscope Si è suicidato Allora, un tizio ha visto il nuovo logo di Instagram e si è suicidato su Periscope dopo averlo visto Perché faceva cacare Un tizio si è suicidato? Eh Allora, mentre lui era in live su Periscope Si è affacciato Ha visto un pompiere Ha avuto paura di quello che stava per uscire dalla tua porta Oh, registriamo, andiamo a mangiare Che il mio suo papà ha avversi strani Prima faccio inviati Allora Prego, sbloccati Scaricate questo gioco Come si chiama? Heroes Clicker Heroes Clicker Io sinceramente ho scritto Clicker E mi ha scudito E mi ha scudito Ho detto Sì, era il primo Ho detto Va benissimo 3, 2, 1 Go! Ciao ragazzi Siamo qui con un nuovo video Un nuovo video a vedere Capitan America Non è bello Guerra Civil War Capitan America Civil War Capitan America Guerra Io pure non ho scioccato da questa cosa No, no Civil War Credi, è Capitan America Due punti Civil War Sì, no, è Capitan America E io pensavo fosse tipo Dei Avenger Ma che titolo di mardà Capitan America Capitan America Capitan America A me i film della Marvel Piacciono Mi piace Batman Batman Superman E Super Mario Io Super Mario della Marvel Lo amo Poi mi piace Il migliore Rocky Due però Perché uno Mi piace Tanto carino Rocky Quando urla Diana Adriana 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 Poi quale mi piace E poi quale mi piace Eh beh Poi c'è Spiderman 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 Che ha i coli dei polsi Che schifo Amore Che schifo Devo vederci C'è il Civil War Andiamo a vederci Capitan America Civil War Capitan America Contro Iron Man Fanno a botte Chi vince Ma perché fanno a botte Non lo so Il punto è quello No non spoilerai Non lo fare Sono solo che c'è un tizio Allora ti do un indizio No 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 Gli indizi già sono spoiler Gli indizi già sono spoiler No ti do un indizio Vinci Ci aspettiamo un classico film Della Marvel Stima Ma assolutamente Quello Marvel E scuola E scuola E scuola E scuola Ragazzi Molta confusione In questo film Speriamo che sia figo Vabbè che comunque La Marvel Ora sinceramente parlando Ok è commerciale Tutto quello che volete Ma fa film I miei figli Da Marvel Fa film I miei figli Da Marvel Fa film Tutti i film Del Marvel Che io ultimamente Ho visto Antman Vabbè Deadpool Non lo metto nemmeno Deadpool poteva essere Anche della Della Disney Channel Sarebbe stato comunque Possiamo andare a mangiare Andiamo a mangiare Mettiamo un bustino Tieni Scolo che fosse Un po' di droga Non ci troviamo ragazzi Non toccatevi neanche Sta andando giusto No Allora A caldo L'abbiamo appena finito Di vedere Sì Abbiamo appena finito Di vedere il film Ammetto che il film Mi è piaciuto Ok Vabbè I film della Marvel Comunque di per sé Sono tutti fighi Mi è piaciuto Come si è intrecciata La trama Però Spider-Man Cioè dov'era Spider-Man Cioè non me lo puoi mettere Ah qui allarme spoiler Perché ve lo dico Se vi siete dentro il film E dico Io non me lo sono ancora visto Allarme spoiler Non vince nessuno Quindi Ho detto Cioè ho parlato con amici E mi hanno fatto Vince Iron Man Ma non vince Aspetta A destra Non vince nessuno Semplicemente Non fanno morire nessuno Si menano a tal punto Da non avere più la forza Di che uno dice Ma non ce la faccio più Ma se ne tornano a casa Perché Però commento a caldo Non mi è piaciuto tanto Come hanno messo Spider-Man Lui il più figo tra tutti Per me Cioè troppo cazzuto Cioè mentre c'era la lotta epica Lui Oh ma quanto sei figo Ma sono in carbonio Con le ali Cioè qualcosa di geniale Qualcosa di geniale Effetti speciali Sempre effetti Marvel C'è cazzo Effetti speciali Visivi No gli effetti speciali Quelli Ah dipende quali Comunque più delle volte Sono effetti visivi E poi ti spiegherò la differenza Ah ok No dillo ora Che figo Allora l'effetto visivo È quello che è stato creato Interamente al computer Mentre l'effetto speciale È quello che è stato creato Utilizzando delle robe Nella vita reale Tipo esplosioni E neve finta Acqua Ok Gli effetti visivi Erano qualcosa Ragazzi che c'è Ma io dove è merda A destra A destra A destra Questo è il giro giro tondo Tipo La parte più bella Di tutti i film Marvel Che l'ho vista Un paio di anni fa Pure insieme a voi E quella parte Da allora Non sono riusciti A eguagliarla È lo scontro Del martello di Thor Con lo scudo Di Capitano America Te la ricordi Quel giorno Io avevo i brividi Eravamo al cinema Insieme mi pare Sì Comunque Io in quel momento Ero accanto a lui O a te Ti ho detto Oddio ce l'ho duro C'è anche lui Tutto nero Apparermi Avvicinati un po' Che non si vedete Ciao ragazzi Apparermi La scena migliore Rimane indiscutibilmente Quella in cui Stelli porta Esatto A Tony Stark Io avrei qualcosa Da ridire Per quanto riguarda La zia May Ok In questo film Ha 30 anni Poi cosa Che Iron Man È un buzzurro Ok Aiuto Non riesco a stare fermo L'odio Iron Man Ehm E che cosa Ah sì Oddio santo Che c'era La pantera No E quindi sembrava più Un ZI madrona Io pantera Il bello supereroe Io supereroe Ok Io supereroe Comunque tirando le somme Mi è sembrato un'accozzaio Di Supereroi Che si menavano E infatti Sì questo sì Questo è vero Allora Dicevamo Dico io la mia Anche se inquietro te Fai tipo il labiale Io credo che comunque Questo film Non sia stato Uno dei migliori Ci siamo persi American American Capitano American Come cazzo si chiama Quello prima Winter Soldier Winter Soldier Quindi ci viene un po' difficile Collegare questo A quello precedente Ma non è della favola Diamo le facce Sì diamo le facce Ok Io ne darei Una Mia Eh io pure Eh minchia siamo d'accordo Tu quanto vedresti Che conosci il nostro metro Di dirizio Da 1 a 5 Allora il film Mi è piaciuto Mettendolo a confronto Con gli altri Effettivamente Perde Cioè se pensiamo Il primo The Avengers Lo avevamo durissimo Appena è finito il film Tutti abbiamo detto Guarda C'è il secondo Cioè Qualcosa di epico Qua non è successo Qui è finito il film Abbiamo detto Andiamo che sonno Eee Quindi Facce Però Giro a destra Ti tubbo Sto ti tubbo Facce Così secco Secco Due 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 Facciamo Uno e due Uno Uno e due Uno Sì sì Vince la maggioranza Ragazzi Vince la maggioranza Quindi ragazzi Alla tre Così la media Due Due Facce Alla due Facce Ok va bene In tutto questo Dobbiamo salutare Dobbiamo salutare Fai salutare La Bremagic Facciamo salutare La Bremagic È felice È molto felice Ci vediamo Ci vediamo a un prossimo video Vi ricordiamo che Che cosa Che Pepo è un bravo ragazzo Che Pepo è un bravo ragazzo E nessuno lo Lo E nessuno lo E nessuno mi voterà mai E nessuno lo può negarlo Tanti auguri Tanti auguri Non è vero Grazie 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 Grazie